un saluto a tutti cari amici di youtube adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri della psiche umana volevo parlarvi delle larve astrali detto anche vampiri astrali o vampiri psichici da non confondere con quelle persone che vengono sono anche quelli delle persone che ti fanno sentire da meno degli altri ti fanno credere di valere meno di quello che vale realmente ma sappiate che ognuno di noi ha dei valori ognuno di noi vale molto di più di quando la gente ci descrive ora vi parlo di queste larve astrali di come riconoscerle e come eliminarle innanzitutto sono delle entità negative molto basse che ci fanno sentire stressati arrabbiati svogliati e a volte anche depressi e malinconici spesso quando vivi in una casa sporca e per sporca intendo dire che non la lavi mai e che non la pulisci mai che non che non spazzoli mai a terra quando uno non fa mai la polvere oppure che dopo aver finito di mangiare non sparecchia mai la tavola o non lava mai i piatti che lascia tutto lo sporco ovunque lì dov'è anche quello è un buon motivo a queste larve energetiche a queste larve vampiriche di possederci ma anche quando uno si lascia andare nel fatto in cui le appena morta la madre o le ha appena morto il padre o un parente o un amico di cui era molto legato e questa persona è sempre sofferente di questo fatto quello è vittima di vampiri energetici devi andare da lui lo devi aiutare devi fargli capire che la vita continua e che non esiste soltanto quel suo caro estinto che ha pure altri amici e altri parenti che lo vogliono bene così poi migliorarlo anche quando hai in casa degli animali imbalsamati che poi è meglio non averli perché anche loro scaricano energia negativa larve astrali perché questi animali per essere imbalsamati significa che sono stati uccisi con armi in modo alquanto brutale così solo per tenere un cadavere in casa impagliato non serve a nulla non comprateli non fateli avere o se ce li avete regalatele a qualcun altro o liberatevene per quanto riguarda sembra l'argomento vampiri energetici quando allontanatevi dalle persone negative spesso quando noi frequentiamo una comitiva soltanto per far vedere agli altri che hai degli amici che poi amici non sono persone che ti usano soltanto che ti sfruttano che approfittano della tua buona volontà nell'usarti e appena finisci di fargli una cosa ti cacciano inventano una scusa e ti mandano via liberarti da queste persone perché sappiate che voi valete molto di più di loro loro vogliono farvi credere che voi non valete niente vogliono farvi credere che siete degli imbranati che avete dei problemi mentali spesso non vi aiutano mai metti caso che uno sta facendo il serale perché non è riuscito a fare la scuola pubblica la scuola che uno di solito fa la mattina e quest'altra persona gli dice ma che studia a fare tanto non capisci niente tanto quel diploma non ti servirà a nulla tu non sei capace di fare niente tu non hai valori tu non fai quel non puoi fare nulla queste persone qua non servono le devi eliminare ti devi distaccare da queste persone che non servono a niente valete molto di più di quanto vi giudicano una larva energetica è come un malocchio è come una iettura una sciagura una fattura fate voi come lo volete chiamare anche nel se nel mio mondo la fattura sarebbe lo scontrino o anche un foglio di carta con quando hai speso la maledizione quando uno vi fa una maledizione quello è anche una larva energetica che dovete liberarvi da questa persona entità negativa spesso facendo yoga facendo reiki o individuando dove il male spesso il male è nel plesso solare ovvero la posizione dello stomaco oppure un po più basso un po più sotto l'ombelico un po nel sacrale diciamo così facendo lo yoga rinforzando questi chakra sappiate che dovete rinforzare anche il terzo occhio molto spesso a uno gli può fare male la testa perché ha indebolito il chakra del terzo occhio il penultimo chakra il sesto chakra quello dell'occhio del terzo occhio spesso ha mal di testa perché si è indebolito quel chakra lì e lo deve rinforzare o se non riesce ad amare deve rinforzare il chakra del cuore o se non riesce ad esprimersi deve rinforzare il chakra della gola spesso queste larve energetiche te ne puoi accorgere nel caso sei sempre malinconico sei sempre triste svoiatezza mancanza di fare le cose o anche hai voglia di fare le cose ma non le riesci a fare perché hai tanto cose da fare quando una troppe cose da fare non riesce a portare a termine niente perché deve fare le cose a poco la volta sbarazzando se ne ha un po per volta i sensi di ansia di stress di rabbia di depressione di gelosia di invidia sono tutti causati da queste larve energetiche non è un caso che i peccati capitali sono sette cioè la superbia l'invidia la lussuria la lussuria la gola la varizia l'accidia l'invidia sono questi sono anche larve astrali di cui ve ne dovete liberare altrimenti prendono in possesso di voi e non riuscirete mai a fare nulla tutti quei sensi di odio di invidia di rabbia ce ne dobbiamo liberare altrimenti le larve astrali saranno i nostri padroni e noi non vogliamo che quel che loro ci comandano non vogliamo che loro ci governano e ve ne dovete liberare ce ne dobbiamo tutti liberare da queste schifezze come facendo yoga facendo reiki o come vi ho detto prima di tenere la casa ben pulita liberarvi da oggetti che vi rendono tristi come un oggetto che vi fa ricordare un vostro parente defunto o qualche resto di animale che un animale imbalsamato se vi rende triste ansioso e svogliato liberatevi di quelle oggetto o di quell'animale lì imbalsamato io ho una tartaruga ma ce l'ho viva e quindi me la tengo perché mi mette gioia anche le pietre vi possono curare mettendo una pietra di quarzo o una metista sotto il cuscino o facendovi una doccia prima di andare a dormire anche semplicemente io mi lavo a pezzi per risparmiare acqua mi lavo con acqua fredda per non pagare i riscaldamenti il lavarsi almeno due volte o tre volte al giorno aiuta a liberarvi dalle larve astrali questo prendetelo come verità perché è assolutamente vero quello che vi sto dicendo dovete liberarvi da energie negative tenendoci tenendovi alla vostra igiene personale più li vi lavate più vi improvfumate improvfumatevi lavatevi poi improvfumatevi e sarete liberi da entità negative bene amici con questo è tutto un abbraccio immenso dal gran mitico per loro Grazie.